Intanto la preoccupazione che nutrono tutti del rischio che aumenti il fenomeno usuraio e che aumenti il livello di infiltrazione criminale nell'economia legale. Le associazioni di categoria condividono questa preoccupazione, riconoscono di non essere adeguatamente attrezzate ad affrontarle da sole. Hanno chiesto alla nostra associazione che si è resa subito disponibile di fornire un servizio di accompagnamento e solidarietà per aiutare le imprese a non finire nelle mani della criminalità e quando purtroppo ci sono già finite ad uscirne in sicurezza e con la massima convenienza.